Lo spostiamo? Eh sì, perché poi saranno anche in giro, qua si sono sparpagliate, ma poi saranno anche in giro perché vanno a cercare il posto dove andare, perché questo qua è un posto provvisorio, si fermano lì, magari stanno qui anche un paio di giorni, poi vanno a cercare un cammino o un'intercapedine e vanno via, poi vanno là e poi mettono in piedi i loro telai di cera, perché non stanno mai alla ferma.